In realtà per fortuna nella società civile israeliana sono tantissime, molte più di quanto non si creda, le persone che esprimono dissenso e adesso si sono anche riorganizzate. E' abbastanza un fatto unico che nel corso di una guerra, una guerra che tra l'altro ha visto impantanarsi le forze armate israeliane perché abbiamo visto ancora che la tragedia degli ostaggi non è stata certo risolta da un'offensiva militare. Che ha solo fatto decine di migliaia di morti. Poi ti fanno l'obiezione che non si poteva fare diversamente, si poteva e come fare diversamente. E Israele si è isolata, Israele ha macchiato la sua reputazione, oggi, non è mai prima di oggi, ha vissuto un isolamento internazionale, persino gli Stati Uniti e l'Unione Europea la criticano.